E se vi dicessi che perfino il più malfamato dei quartieri americani diverrebbe totalmente sicuro? Come faccio a saperlo? È quello che sta succedendo in questo momento in qualunque paese del globo, a parte questo. È fantastico vedere delle macchine americane che aiutano a portare la pace nel mondo. E allora ditemi, perché non possiamo usare queste macchine qui in casa nostra? Per quale ragione l'America è così robofobica? Diamo agli americani un prodotto che possano amare, in cui possano credere. Non possiamo mandare in giro una macchina. Niente macchine. Vogliono un prodotto con una coscienza. Qualcosa che sappia che cosa si prova a essere umani. Hai un bacio a mamma? Buonanotte, amore. Sei lento, piccolo. Mettiamo un uomo dentro una macchina. E ora lo sveglieremo. Prendiamolo più tattico. Nero è meglio. Controllo di qualità. E M208 contro uomo di latta. Wow. Ci farà fare un bel po' di soldi. Arriva! Giochiamo a sbirro buono o sbirro cattivo? Io sono il cattivo e tu il roboco. Sta annullando quello che gli abbiamo fatto. Abbattetelo! Grazie per la collaborazione. Grazie per la collaborazione.